Andiamo avanti, gli ultimi quattro segni per questo venerdì, Arzus. Sì, ripartendo dal segno del Sagittario, certamente una giornata molto positiva, però questa è una luna che un po' vi inibisce da un punto di vista sentimentale, perché è una luna vicina a Saturno, questo Saturno presente nel vostro segno, che già vi ha messo duramente alla prova, che vi mette continuamente sotto esame, che tende ad eliminare tutto quello che di superfluo c'è nella vostra vita. E in effetti anche in riferimento ad un rapporto, questi transiti possono creare quegli attriti, quelle crisi che poi alla fine vi faranno decidere di cambiare completamente strada. In effetti questa è una luna che può farvi riflettere molto sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda il lavoro, questo sarebbe il momento proprio più opportuno per staccare la spina e dedicarsi solo a relax. Questa è una luna che in effetti parla di voglia e anche di divertimento, di non pensare ai problemi quotidiani, di pensare invece a rilassarsi, a ritrovare l'equilibrio, la serenità. Del resto questo sole in transito è il segno del leone. Parla ancora di voglia di viaggiare, di voglia di esplorare, e potete farlo nel corso di questo weekend. Andiamo al segno dell'equilibrio.